Salve a tutti, ci troviamo nella cucina del ristorante Stella d'Italia. Io sono Ernesto, il titolare e questo è il mio collaboratore, lo chef Mitener. Buonasera a tutti. Cominciamo con la preparazione del malfatto di zucca. Noi abbiamo messo la zucca a pezzi in forno, l'abbiamo fatta cuocere, abbiamo fatto una porrea di zucca, abbiamo messo dell'uovo, della farina, aromi, pepe e noce moscata. Adesso lo chef Michele farà il sughetto per condire questi malfatti di zucca. Mettiamo il padrone alla noce di burro, fiamma bassa, un gusto d'olio d'oliva, facciamo tostare un po' lo speck ad adini, una sfumata con un lagren dell'Alto Adise, un pizzico di sale e pepe ma poco perché per lo speck è già saporito di suo. Radicchio rosso Tredisano, pochi minuti per non perdere la croccantezza del radicchio. Nel frattempo cominciamo a preparare le quenelle e farle cuocere nell'acqua bollente. Quando i malfatti vengono la galla, sono pronti. Andiamo a spadalare i nostri malfatti, il formaggio grana e andiamo a impiattare. Una spolverata di grana e una di prezzemolo. Il piatto è pronto, buon appetito dal ristorante Strada Italia.